Era diventato l'incubo delle attività commerciali e produttive di Pesaro. Si introduceva di notte da una finestra o dalla porta e mirava al fondo cassa o ai soldi dei distributori automatici, ma rubava anche bici, monopattini e ogni cosa che avesse un valore economico. Negli ultimi 15 giorni le telecamere di quattro attività imprenditoriali lo avevano ripreso mentre faceva razzia di soldi. In una di queste era riuscito a impossessarsi di circa 5.000 euro ben nascosti nell'ufficio della titolare. Già noto alle forze dell'ordine, approfittando della sua agilità e della sua velocità, era riuscito a sfuggire più volte ai controlli della polizia, arrivando a lanciarsi nel fiume pur di sottrarsi agli agenti. Era ricercato da tutti gli uomini della squadra volanti di Pesaro e la sua fuga è terminata venerdì 12 maggio quando uno degli agenti in servizio all'ufficio prevenzione generale della questura, che lo conosceva bene, libero dal servizio, lo ha individuato nella periferia della zona industriale. Approfittando della pioggia si è messo al suo seguito chiedendo il rinforzo di una pattuglia che nel giro di pochi minuti lo ha raggiunto e si è appostata per bloccarlo. Questa volta per l'uomo un macedone di 24 anni con una lunga sfilza di precedenti non c'è stato scampo. Bloccato e immobilizzato è stato condotto negli uffici della questura dove sono stati eseguiti tutti gli accertamenti. Per gli investigatori è coinvolto in almeno sei furti tra cui quello dove era riuscito ad impossessarsi dei 5 mila euro all'interno di una ditta che produce bare e accessori in legno. Proprio nascosti in un'urna cineraria il macedone aveva scovato il ricco bottino. Per lui sono scattate le manette ed è stato accompagnato nel carcere di Villa Fastigi. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pesaro condividendo l'operato dei poliziotti ha convalidato il fermo e disposto per il 24enne la custodia in carcere. Intanto proseguono le indagini per individuare altri reati commessi dall'uomo la cui posizione è al vaglio dell'ufficio immigrazione della questura che sta predisponendo la sua espulsione dall'Italia. Sarà il processo a stabilire di quali e quanti reati è responsabile il sospettato che secondo il sistema giudiziario italiano è innocente fino all'emissione della sentenza definitiva di condanna.